Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.